Gary King, per cui se puoi presentare direttamente... Ok, due dati tecnici, vi ricordo sempre che i nostri stand sono rappresentativi dell'Associazione Contatto Massivo, associazione organizzatrice, a proposito di questo do il buongiorno al padrone di casa, Antonio Urzi, grazie per aver organizzato questi incontri, un applauso. Buongiorno a tutti, benvenuti. Buongiorno, abbiamo materiali informativi di approfondimento sulla vita di Giorgio Bongiovanni, molti testi proposti a Pier Giorgio Caria, all'Associazione Ollus, quindi c'è un grande spazio dedicato anche all'aspetto della solidarietà. Andiamo ad iniziare il convegno, non so se ho detto la lotteria, la lotteria è un punto importante, quindi oggi potete partecipare, alle ore 17 c'è l'estrazione. Potete acquistare i biglietti, sono lì al banchetto, mi sembra, vengano. I premi li ricorderemo strada facendo. Andiamo dunque a presentare un esperto nel fenomeno extraterrestre, rappresentativo di un'altra terra, quindi il nostro viaggio geografico continua. Siamo in Inghilterra con Gary King, un ricercatore indipendente, che si occupa soprattutto di crop circle, cerchi nel grano. Già ieri ne abbiamo conosciuti, ha partecipato a innumerevoli programmi televisivi ed è anche guida turistica nelle zone dei cerchi nel grano del suo paese. Quello dei cerchi nel grano è un vero e proprio fenomeno comunicativo dal cielo alla terra, che sottolinea e anticipa gli eventi spesso. È un fenomeno che ha una propria grammatica da studiare e interpretare. Nella relazione UFO e cerchi nel grano, un'esperienza che cambia la vita, per questo convegno Gary King. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono un ricercatore dei suoi cerchi nel grano da almeno vent'anni. Sono molto interessato sul simbolismo, sulla comunicazione mentale e come la gente cambia nel momento in cui viene a contatto con questo fenomeno. Nella mia storia, partendo da vent'anni fa, prima di entrare nel mondo dei cerchi nel grano, ero un avvocato. Quindi mi concentravo soltanto sul far denaro. Ma dopo aver passato del tempo sui cerchi nel grano, sono cambiato. Mi sono accorto, devo prenderne atto, che nella mia ricerca ho visto che milioni di persone che vengono in contatto con i cerchi nel grano cambiano anche essi la loro vita. Quindi volevo presentarvi alcuni casi e farvi vedere cosa succede alle persone quando hanno un cambiamento di vita. Il primo caso è a Westall, in Australia. E' conosciuto come la Roswell australiana. Nel 1966, 200 bambini, assieme al loro insegnante, hanno visto con loro occhi e un UFO che è atterrato nel loro giardino dove giocavano. Recentemente è stato fatto anche un documentario su questo caso. E dato l'anno in cui è successo, tutti i testimoni hanno 50-60 anni. Hanno detto che dopo aver avuto questa esperienza venne un uomo, pensavano fosse dal governo, e questo uomo gli disse che non avevano il permesso di parlare di questo evento. E quindi per 40 anni hanno taciuto su questo fatto. E quindi ho cominciato a interessarmi su quello che succede a una persona. nella mia personale esperienza nel 2007 il 7 luglio 2007, quindi 777 io e la mia fidanzata abbiamo guardato le stelle, fatto uno skywatch di notte siamo incontrati con un uomo che aveva telecamere sistemate su una collina per cercare di guardare e trovare gli UFO quest'uomo è uno scienziato lavora per la Rolls Royce ed è progettista di motori per aviazione ed è anche addestrato come pilota di caccia ed è quello che ha inventato il sistema di pin del pin e del chip da inserire sulla carta di credito quindi è una persona molto intelligente ha investigato i fenomeni UFO negli ultimi 30 anni quindi quella notte l'abbiamo incontrato e stava sistemando le sue telecamere per fare una visione notturna quindi ci siamo seduti con lui a un certo punto divenne molto buio e alle 3.20 del mattino ci fu un forte flash di luce e questa foto mostra me potete vedere il cerchio nel grano quando il sole sta appunto albeggiando abbiamo tenuto sotto osservazione filmato tutto il campo per tutta la notte è stato registrato su nastri e possiamo confermare da questo che nessuno è entrato in quel campo e la formazione che abbiamo visto al mattino è questa qui 315 metri lungo 160 metri largo più di 150 cerchi vi voglio mostrare un video per mostrarvi la scala quando ci siamo entrati alle 4.36 di mattino queste sono loro le loro relazioni queste dimensioni mostrano come sarebbe difficile per le persone poterle fare da loro questa formazione è apparsa nel buio pesto della notte in 5 ore o 300 minuti dopodiché qualcuno disse che fu fatto questo cerchio da 8 persone e noi non le abbiamo mai viste e il video non le ha mai riprese quindi 300 cerchi e 300 minuti 150 cerchi significa ogni cerchio ci sarebbe dovuto volere circa 2 minuti per farli questo è impossibile adesso vi faccio vedere un video di 12 persone che fanno un cerchio volume un'ora già scritto sul video sta dicendo che stava facendo il piano il progetto vedete quanto quanto tempo serve quello è il modello che volevano fare dopo 11 ore dopo 11 ore sono ancora lì che lavorano ricordiamo sono 12 persone stanno hanno ovviamente difficoltà tecniche le funi si intrecciano andiamo di qua andiamo di là facciamo questo facciamo quello ok il giorno dopo vanno a letto poi si rialzano e continuano il lavoro ovviamente sono passate 19 ore adesso usano l'aeroplano per fare un sopralluogo fare foto e vedere la situazione dice sta venendo bene adesso guardano le foto per vedere se possono fare qualche cambiamento modifiche adesso stanno facendo i tocchi finali questo è un'ora di più questo è un'ora di più 23 ore 23 ore ed è ed è il logo della Firefox molti di voi l'avranno riconosciuto eccolo qui è un un programma per andare su internet 12 persone 23 ore torce in testa quando fa buio la piantagione era fortemente danneggiata alla fine quando hanno terminato circa 6 mesi fa ho fatto una trasmissione che si chiama alieni antichi dell'antichità c'erano tre dei più esperti fautori dei falsi crop circle John Lundberg John Lundberg Rob Irving Rob Irving e Will Smith e l'altro dovrebbe essere Will Smith e hanno fatto questa formazione in 4 ore durante il giorno se metto se metto le due formazioni a confronto potete vedere il problema pratico tra la mia esperienza personale questa grande formazione che è apparsa davanti a noi è quella di 300 cerchi non abbiamo visto nessuna luce il terreno non è neanche piatto è un terreno ondulato ed è impossibile da fare comparandolo ai cerchi falsi mostrati in figura quindi per quanto io posso concludere queste persone fanno delle pubblicità dei lanci pubblicitari per la gente in condizioni molto diverse rispetto alle condizioni in cui la maggior parte dei crop circle appaiono quando gli chiediamo di fare un crop circle di notte nelle stesse condizioni di buio si rifiutano bene questa è una delle più grandi motivazioni per cui la gente dovrebbe comprendere che i cerchi nel grano sono un fenomeno vero andiamo più da vicino in altri casi questo è un articolo di un giornale da un mese fa e mostra che il principe è consorte della regina d'Inghilterra Philip ha un grandissimo interesse negli UFO adesso vi cito testualmente Nick Pope che ha scritto questo articolo del giornale questo interesse reale negli UFO è stato veramente difficile per noi del Ministero della Difesa perché la nostra policy è di porre sotto il moggio la vera portata e il nostro interesse e il coinvolgimento negli UFO noi ripetutamente abbiamo detto al Parlamento così come ai media e al pubblico che questa materia è di veramente nessun interesse e non c'è nessun motivo per preoccuparsi a livello della difesa e questa adesso vi cito la cosa più importante che ha detto l'ironia è che noi eravamo tutti servi della corona e i nostri capi principali erano affascinati da una materia una materia che noi stavamo cercando attivamente di insabbiare quindi Nick Pope è lo scrittore dell'articolo e ricercatore sta ammettendo che lui addirittura sta dicendo bugie alla famiglia reale e sta cercando di abbassare l'importanza di questo fenomeno in altre parole quindi sta ammettendo di essere un bugiardo uno che diffonde bugie su qualcosa quando persone come me e molti altri hanno esperienze con gli UFO noi sentiamo di essere messaggeri che dovremmo andare in giro e diffondere questa cosa alle persone e dire alle persone che magari il governo e i media stanno dicendo le bugie ci sentiamo dal lato degli extraterrestri nel 2002 è apparso questo importantissimo crop circle si chiama il crabwood alien il disco alla sinistra della faccia dell'alieno era un codice binario con un messaggio che abbiamo tradotto in un messaggio e dice questo state attenti ai portatori di falsi doni e le loro promesse infrante molta pena ma c'è ancora tempo credete c'è del bene lì fuori noi ci opponiamo agli inganni quindi se leggete questo pensereste che si opporrebbero a Nick Pope nel 2011 nella mia ricerca sono arrivato a un bivio perché sentivo che bisognava dire alle persone che i crop circle erano una faccenda vera seria e l'ho fatto per dieci anni ma a quel punto apparve questo crop circle e mi fece ripensare come vedete non è completo questo non è completo e notate la data 4 luglio appena è successo e non era completo tutti quanti lo hanno considerato come fatto dall'uomo ma io ho imparato che non puoi semplicemente escludere una cosa devi comunque investigare e controllare approfonditamente quindi sono andato qui molte volte e ho cominciato a studiarlo e ho trovato che contiene una geometria molto precisa pentagonale e quando ho visto il centro ho disegnato un cerchio qui al centro il raggio di tutto il cerchio è 210 piedi quindi circa 80 metri e mezzo raggio 105 piedi 40 metri tocca perfettamente tangenzialmente in questo punto qua che è piatto quindi ho analizzato le parti singole e potete vedere il vesica pisces questi due cerchi qui il cui punto di intersezione sono ovviamente i vertici del vesica pisces fanno la forma di un corpo del corpo il giorno seguente è cambiato in questo qui a questo punto nessuno in la comunità è interessato a questo punto nessuno nel mondo della ricerca ne era più interessato lo hanno considerato come un falso che in un certo senso è logica come cosa se una grandissima formazione come quella del 777 può prendere luogo in una notte pochè questo è stato fatto in due notti dovreste pensare è stato fatto dall'uomo questa è l'ultima parte che è stata aggiunta e per farlo rientrare è 14% più piccolo degli altri se torno al cerchio che vi ho mostrato prima in piedi e quindi questa parte dovrebbe rientrare dentro l'ultimo simbolo che è stato aggiunto ma le piante in questo momento lì sono in piedi sul terreno potete vedere che una parte di piante sono state rimesse in piedi per completare il disegno non abbiamo mai visto che le piante ritornano in su e quindi questo mi ha convinto abbastanza che questo non è stato fatto dall'uomo nello stesso giorno in cui la prima parte del cerchio è apparso quindi il 4 di luglio è apparsa anche questa formazione dall'altro lato del fiume questo non può essere un incidente e quindi mi ha fatto riconsiderare la situazione se gli alieni possono fare un crop circle che è tale che la maggior parte della gente lo lascia stare lascia perdere come un falso magari devo riconsiderare come devo andare in giro e convincere la gente di quelli veri perché in questo momento sembrerebbe che gli alieni stanno facendo stanno giocando su entrambi i tavoli un altro esempio di questo 2015 è apparsa questa formazione nella tana del coniglio tutti quanti lo hanno considerato come fatto dall'uomo eccetto me e il professor Michael Glickman il suo collega lo abbiamo analizzato molto da vicino una delle cose che abbiamo fatto nel corso degli anni è cercare una geometria nascosta sacra all'interno dei cerchi e ne abbiamo trovata parecchia dentro questo qui la curvatura della parte inferiore della testa del coniglio se la continuate c'è anche di sinistra viene fuori un perfetto vesica pisces Pier Giorgio ha mostrato questa slide ieri per Giorgio che ria per mostrare che è connegata al Cristo come potete vedere su questa animazione adesso il coniglio è il simbolo della Pasqua la resurrezione di Cristo che proviene questa tradizione dalla Siria 3000 anni fa il coniglio era un simbolo per la morte e la rinascita quindi abbiamo trovato molto di più il corpo interno il corpo interno ho cercato in blu la curvatura che mostra il corpo forma la parte interna quindi l'interno dell'orecchio ha la stessa curvatura del corpo la cima della testa il dietro dell'orecchio quindi stanno usando le parti interne del corpo per fare la testa le orecchie eccetera questo è abbastanza intelligente e poi mi sono accorto che se voi spostaste il corpo nel centro abbiamo un esagramma perfetto nei punti di intersezione che raffigura il 6 e inoltre c'è anche un metagramma se utilizziamo mettiamo la coda all'interno il quale racchiude completamente la coda per mostrare il numero 7 quindi che significa tutto questo la Bibbia porta molti riferimenti riguardo il 6 e il 7 la formazione che mi apparsa di fronte fu il giorno 777 e la Bibbia dice che questo numero è collegato a Gesù parla anche del numero 6 Gesù è passato attraverso sei stadi di completamento e la perfezione fu raggiunta il settimo giorno quindi abbiamo un coniglio simbolo di Cristo come Pasqua contiene il Vesica Pisces numero 6 e numero 7 dalla Bibbia e tutti quanti lo hanno comunque considerato come fatto dall'uomo perché era semplicemente un diagramma molto semplice questo mi conferma che dobbiamo dovete guardare molto più attentamente ma a questo punto ero ancora più confuso se loro vogliono che noi sapessimo che sono qui perché fanno un crop circle che tutti quanti ignorano è un mistero questo uomo il professor John Mack buonanima era uno psichiatra all'università di Harvard ha intervistato fatto un'investigazione a tantissime persone che hanno avuto esperienze con gli UFO e sono stati rapiti sono stati addotti quindi all'inizio lui pensava che queste persone addotte erano fuori di testa ma quando ha cominciato a parlare con loro poteva vedere che nessuno di loro aveva nessuna patologia mentale si è reso conto dopo molti anni che queste persone avevano problemi con la loro esperienza personalmente i loro familiari amici dopo questa esperienza gli ridevano appresso quindi cominciavano a diventare sempre più isolati dalla comunità principale dove vivevano ma si è reso conto che hanno cominciato a seguire uno schema uno pattern ben precisa cominciavano a diventare più interessati nei problemi ambientali nello sciamanesimo e alla fine tutti quanti arriverebbero o diciamo molte arriverebbero alla contemplazione di Dio quindi come me stesso l'esperienza di trasformazione è spirituale e Gesù sembra esserne fortemente coinvolto dopo cinque anni in cui ho ripensato quello che stava succedendo ho dovuto rivalutare quello che stava succedendo chiedendomi perché gli alieni non ci danno prove certe ho realizzato che milioni di noi individualmente si stanno trasformando portati verso una nuova forma di spiritualità per considerare quello che stiamo facendo al pianeta troppe guerre brutte relazioni gli uni con gli altri quindi gli alieni non è che ci stanno semplicemente dicendo noi siamo qui ci stanno dicendo noi non siamo la cosa importante qui noi vogliamo che voi guardiate verso Dio quindi abbiamo visto questa formazione un chiarissimo riferimento a Gesù Pier Giorgio Caria ieri ha mostrato questa slide che mostra chiaramente senza ombra di dubbio la faccia di Gesù il volto di Gesù quindi 777 si riferisce alla Bibbia e a Gesù il coniglio e si riferisce pure a Gesù e il fatto che gli alieni non atterrino e non ci diano la prova provata ma ci danno abbastanza spazio per dubitare ci fanno fare a noi il lavoro di ricerca significa che noi siamo tutti guidati verso la nostra personale percorso di sviluppo interiore e ricerca grazie mille grazie